Naturalmente Ecco la notte Ed ecco l'orda Che si avvicina insieme a una nebbiolina Mortale E' però l'olio ci ha aiutato L'olio è stato tattico Li facciamo imboccare qua nell'olio Imballiniamo per bene Cominciamo a festarli Fammi tirare due Queste così li debaffiamo felici e contenti Quello si è buttato in mezzo a 50 nemici Quindi potrebbe menare questo E se noi facessimo Una cosa di questo tipo E qua è vinta Abbiamo tirato la super cosa Abbiamo vinto Questa è vittoria gratis praticamente Rivellato stand Nice Arrivano altri Oddio non è che è proprio vittoria gratis Quasi Vediamo se c'è gente che sta perdendo HP Non mi pare Questi li voglio tenere nelle fiamme Stanno prendendo fuoco anche loro Stiamo pushando così tanto che pushiamo nelle fiamme Venite dietro Venite dietro Andate a perdere vita in mezzo al fuoco C'è il delinquente qui che sta sucando a schifo Mi sembrano Ah c'è l'altro delinquente che sta messo male Noi lo curiamo Noi lo curiamo mica no Mi sa che adesso muore però Eh ha subito troppo Vabbè però è un pirla È un pirla lui eh Perché questi si sono buttati tutti in mezzo alle fiamme Maledetti salami che non sono altri Pure Dwine Dwine lo vorrei cercare di salvare Insieme a Sir Pertola Tornate indietro Ah ok adesso sono I mostri ci attaccano dall'aveo Stanno attaccando la barricota Ci serve aiuto E state qui a proteggere il sentiero Andiamo giù Tu 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 Però prima livelliamo Allora lui deve arrivare a 38 Tac c'è arrivato a posto così Una volta che c'è a 38 siamo golden Affondo critico Sfera un solo affondo possente contro il bersaglio Se l'attacco colpisce automaticamente un critico E se la salute del bersaglio è sufficientemente bassa Può ucciderlo sul colpo Eh 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 Anche questo qua che fa tutto l'away Che scrocchia tutto Questa è una passiva che ottiene un notevole bonus ai danni contro Golem e Costrutti Spacca armatura anche forte Distruttore Ben pochi possono resistere ai feroci colpi di un distruttore Ogni attacco del personaggio intacca l'armatura del bersaglio Riducendone l'efficacia per un breve periodo di tempo Gli effetti dei colpi molteplici non sono comuni Allora io vi faccio questo E siccome lui usa pochissimo gli attacchi Questo qui glielo voglio mettere da questa parte E glielo metto anche nelle tattiche E glielo metto come tattica Posso cancella, cancella, ok Gliela metto come nemico Visibile, salute massima, oddio personale forse c'è Circondato da nemici Da tre o più nemici Se sei circondato da tre o più nemici Mi fai la falciata a due mani Che sbudelli tutto Così almeno falla away Siamo belli golden Mo lo proviamo subito il falciatone Mica no Che in realtà se uno mettesse le pozzettine in automatico Ha vinto Se metti le pozzettine in automatico Hai vinto il gioco Aramo ci buttiamo in mezzo a 40 nemici E facciamo questo Oh Una straia di solo due In realtà una straia di solo due Ciao Ho questo Per terra per terra Stai zitto C'è qualcuno Che ci interessa Che rimanga vivo C'è il buon Thomas lì che non vogliamo Ma secondo me questi Vanno con una certa facilità Abbastanza tranquilla Morrigan sta subendo l'abuso Perché? Perché si è messa in mezzo a 94 nemici ovviamente Che mi sembra una cosa interessante Molto intelligente Thomas Dio dove stanno? Uh questo qua sta messo in mezzo Noi lo curiamo Noi lo curiamo Facile Eh però stira mi spiace Troppo focus qua loro non si spostano mai Però magari No vabbè in realtà non è necessario Basta attaccarlo questo Però scusa Lelia Tu attaccia un attimo questo Questi sono Sono gingerini questi nemici Sai che c'è? Io però a lei la voglio spostare La metto qua Così c'è pure Lightground Distruggi questo Perché questo non è venuto qua da me Così Ma tutti Ma guarda Frux Come stanno avvenendo tutti Dalle liana vengono Guarda un po' Andate a schiuffare Per favore Posiziono pure lei qua Guarda Ma Tomasso Tomasso è vivo Niente si è bloccato qua Ha avuto l'attimo Stordimento A manetta vai Let's go Sono un botto Per questi nemici Sono veramente Veramente un botto Non è che vengono dei nemici Un po' più golosi Tra un po' Facile Ah questo è uno Di quelli che è morto Ma in realtà Ste robe qui Vabbè le prendo E poi le rivendo Però sono proprio Spiccettini quelli Proprio spiccetti Vende quella roba ormai Però insomma ci servono Pure gli spiccetti L'alba delle porte Stiamo sopravvissuti Alla notte La vittoria è nostra Facile Bisogna vedere domani Però Di niente Di niente Ragazzi Siamo così vestiti E grussi Che praticamente È stata una Piallata Completa C'è ancora Molto da fare Bantigan Senz'altro Proprio parlavo di me Murdoch Of Redcliffe Mayor And beloved Father We salute We salute You And so many others Who have perished here Walk with he Who is your maker Long may you know The peace Of his love E così sia Spam E andiamo al castello Io voglio i suoi stivali Molto stilosi Allora Meet me at the mill Ok però Prima andiamo dal Dal nostro amico Qui Per vendere Visto che ho Lutato un paio Di cazzatine Che comunque Occupano spazio Nell'inventario Tanto vale Salve Ci sono cose No Non ancora Le faremo Le faremo sapere Parliamo d'affari Adesso Le faremo sapere Non si preoccupa Pugnale Arco corto Sella Sella Vesti vendi tutto Vendi 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 A posto Let's go Let's go Adesso dobbiamo andare Uh però qui abbiamo la bacheca Del cantore E una What? E la La scatola degli Irregolari Uh Amico mio Gli irregolari hanno bisogno Di un agente fidato Per intracciare Occuparsi dei disertori Se farete questo Sarete ricompensati I disertori hanno sottratto Preziosi pettovaglie Fondamentali Ok E questo Oliando gli ingranaggi Ho un incarico Che richiede Tatto e discrezione Credo che siate La scelta perfetta Per questo coppio Gli irregolari di Blackstone Non possono sopravvivere Senza il Pr Pr Citeriorno dei nobili Ma gli altri gruppi Per questo vi chiedo Di recarvi a Denerim E di portare I nostri omaggi Ad alcuni individui locali Tornate quando avete finito Mi assicuro Di essere ricompensato Bene Abbiamo rimediato Un po' di missioncine Qua invece Che ci avete Signori La carovana Annientata Ehm Però lo scuro Ha steso le proprie incursioni In aree precedentemente Ritenute sicure Un Portaordini Di confine Ha raccontato Di essere involontariamente Entrato in territorio Infestato con la sua carovana Ok Di nuovo Questo qui Hanno supplicato Di portare Le loro notizie Dei propri figli E fratelli Ok Portaordini Raga Anche se i rapporti Che ho udito Hanno subito Blah 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 Se dobbiamo Combattere Per questi esseri Naturali E prevenire Blah 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 Se sono presenti Abili guerrieri Vorrei che raccogliessero Campioni delle creature Rimaste Nice Rifugio del disperato Sorella rena Ha sentito voci Su un'imminente tragedia Un portaordini Mi ha portato Infauste notizie Tutti i portaordini Se qualcuno ha le capacità Di salvare queste persone Io posso offrire Soltanto la gratitudine Mia E di papelino Allora Vediamo un po' La mappa La mappa qui Non è cambiata Parte Per il fatto Che adesso Dobbiamo andare Verso Van Tegan Perché qui Non dice nulla Delle varie Casa di Dwin Emporio Casa di Caitlyn Però aspetta un attimo Perché l'emporio Magari potrebbe essere buono Cioè potrebbe essere utile Adesso che Thomas Abbiamo avuto una battaglia Thomas E certo Eh Lo vedi Ma prima devo ubriacare Bellissimo Sei scusato Amico mio Ci vuole una bella Bevuta Prima di una battaglia Allora L'emporio L'emporio Questa è la casa di Caitlyn Sarà ritornata qua Col figlio Immagino Nulla di Intrigante Non è tornata qui Col figlio Ma dove cacchio stanno Scusa Non stavano neanche in chiesa Mi pare Niente Sono andati via Per sempre Torniamo di qua Andiamo all'emporio Andiamo all'emporio Che c'è Chi è là in fondo? C'è una persona Con cui parlare Là in fondo L'emporio Non c'è nessuno È tutto devastato Come al solito Però c'è una persona Lì sul fiume Che è aggiunta Chi è quella persona là? Non ci ho mai parlato In vita mia Lì sono del collettivo Dei maghi Ma io l'ho già visto Questo NPC Perché è uguale Ad altri venti Come posso aiutarvi Amico mio? Molto bene Dare un'occhiata A queste richieste Un sacchetto Chiedo al collettivo Dei maghi Di trovarli Che gli serve? Una piccola banda Di fanuloni Sostiene Di avermi visto Praticare le arti Probiate E partire Per consegnare Testimonanze Ok Quindi dobbiamo fare Sta banda Di fanulloni Di sicari Rinuare il nostro rapporto Con questi gentili Tonare del lirium Ok Dieci pozioni di lirium Che vanno offerte Al comandante Arith A Redcliffe Funghi delle profondità Questo credo Che ce l'abbiamo già Dove vanno portati Sti funghi Tra l'altro Poi le vediamo Ste missioni Queste sono un po' Sparse Gli scritti Dell'odiato Maleficar Banastor Dovrebbero essere Sufficienti Se un corriere Mi procurerà Una copia Delle pergamene Di Banastor Gli sarò Adeputamente Grato Giù Basto E dove si trovano Queste Non lo sa Manco lui Dove si trovano Good to see you again Good to see you Bene Vabbè Quindi Queste missioni qua Sono sparse un po' In giro per il mondo Tanto vale che noi Ogni volta che andiamo In una città Le prendiamo tutte E poi vediamo Tra l'altro Queste mi pare Che siano state aggiunte Con i DLC Alcune sono carine Ci hanno belle ricompense Altre un po' Meno Ma al solito Insomma dipende Un po' Da Dalla situa E io direi che adesso Comunque puntiamo A finire la missione Dell'Arle Prima cosa E poi dopo Ci facciamo Una bella pagata Per fare tutto il resto Innanzitutto La missione dell'Arle Adesso è la priorità Perché abbiamo liberato Il villaggio Ora tocca all'Arle Che sta male Poveretto Ci dovevamo vedere qua Io faccio il giro così Almeno non mi incarto Sul legno Tac Guarda lì Preciso Ed eccoci da Bantigan Ah eccolo Comandante Arret Molto bene Ok Io volevo portargli Le cose Uno sveglione E perché non l'avete detto Prima Ci ha triccato Vabbè Ci può stare Però se ce lo diceva L'avremmo aiutato Lo stesso Senza andare Direttamente Al coso No Che fa Ah Isold Abbiamo letto Di lei Perché non andiamo tutti però C'erremmo aiutato grazie è stata molto molto utile questa informazione ce n'eravamo accorti che ne è stato te dell'arla invece se non è stato mantenuto in vita che figo l'arco che c'ha l'eliana non mi sembra una buona situazione questa acqua quindi praticamente c'è un demone che permette loro di essere vivi ha permesso a lei di uscire e chiedere aiuto e Tegan adesso vuole andare con lei nel castello no? perché Tegan deve andare da solo? dici beh basta quelle domande dobbiamo decidere cosa fare però non so se... beh sembra che non abbiate molto scelta ecco ok dacci le chiavi della cosa e facci passare I will be... I will be by the bridge I will be by the bridge in français ok quindi lui va con i soldi e a noi ci dà il passaggio secreto bene bene dico che va bene una volta dentro cosa dovrei fare però ah anche io vorrei saperlo beh grazie siamo sacrificabili? non credo io vi salverò tutti ve lo prometto ovvio ovvio e tanto ci vuole andare lui che devo fare io scusa e vabbè let's go dobbiamo entrare qua e poi entrare qua usando un incantesimo un talento d'attacco e bersaglio singolo ha bersaglio singolo e il suo influencer automaticamente il tuo attuale bersaglio se desideri selezionare un nuovo bersaglio Andiamo avanti il tank va Chi può avere Scavato una cosa simile Ma quante domande le fai? Si fa le domande lei Lei si domanda cose Io mi buffo l'attacco Ma sbaglio è Rowan questo Ah no, Johan, è vero Dunque siete voi il mago di cui ha parlato Lady Zold Avete avvelenato l'Arlet Lì, chi ha visto lì? Lì, chi ha visto lì? Che cosa? Lì, chi ha visto lì? Lì, chi ha visto lì? Ci hanno parlato di Lily Perché la chiesa l'ha mandata via? Stiamo mentendo Però se non mettono tipo menti tra parentesi Io che ne so se glielo sto dicendo con cognizioni di causa o meno Lily sapeva ciò che stava facendo Sta bene, sta bene Sta una crema Sta bene, Johan, non preoccuparti Tutto a posto Bene, bene, sta una crema O forse sì O magari sì Voglio sapere come si è definito qui coinvolto in tutto questo Raccontaci tutta la storia, Johan E quindi ha fatto un triplo casino E perché non vi hanno ucciso, però? E sentiamo un po', vediamo un po' Perché lo avete avvelenato, l'Arlet? Ah Pure con Loghain si era messo, questo Pure Johan, dove siete arrivato? Siete caduto veramente in basso, amico mio È andata nel peggiore dei modi, beh Hai disappointato pure me Ma perché avete prestato ascolto proprio a Loghain tra tutti? E dunque vi ha soldato per avvelenare l'Arlet? Conor ha iniziato a mostrare Signori Lady Isolde era terrorizzata Il circo di magia L'ho tirato per trainare L'ha trovato un apostate Un mage Un mage outside the circle Per insegnare il suo figlio in segreto Allora, il perché Isolde era terrorizzato dall'idea che suo figlio diventasse un mago è abbastanza ovvio Quindi è una domanda che non faccio Più che altro perché non voleva che glielo togliessero Ovviamente Arlimon non aveva idea delle capacità del figlio No, l'ha appena detto E quanta magia aveva insegnato a Connor Cosa che è già successa Capisco Credo di capire E vabbè E quindi cosa volete fare al riguardo? Vi ho già aiutato una volta in nome dell'amicizia Ecco Ok Ecco Le scuse Scusa Prima dallo schiaffo e poi nasconde la mano Sì ma lui già ce l'ha avuta una E Scusi Datemi una possibilità Sì ma non fate scherzi Mettiamola così Verrete con me ovviamente Che domande Che domande Ma ovviamente vieni con me Preferireste che vi uccidessi? No, non voglio morire Hai visto Bravo eh Bravo Bravo Quindi aiutateci ma evitate di peggiorare le cose Vediamo magari può tornarci utile Non mi ricordo che cavolo succedeva Me lo ricordo vagamente quello che succedeva Alla cosa E lui sicuramente può tornare utile Perché è quello che ha fatto il pasticcio Quindi avrà una mezza idea Di come lo può risolvere E Stan disapprova come al solito La scuola proibita del Tevinter Questa già l'avevamo letta Mi sa che si è aggiunto solo un addendum Alla cosa Ma queste Celle ci hanno qualcosina dentro? Non c'è niente Qui c'è una nota però Un messaggio a Rutulath Questi si alzeranno sicuramente Spero che chiunque trovi questo messaggio sappia leggere Odio credere che i miei ultimi pensieri Possano essere usati materiale combustibile Ah ok O che il creatore ci salvi Per pulire il sedere di qualcuno Ma suppongo che questo dipenderà da te Mi chiamo Branana Sono nato a Rheinsfer Un tempo coltivavo mele Quando gli orlesiani pretesero che mi piegassi al loro imperatore Io li scacciai Loro diedero fuoco ai miei fruttedi E la mia casa Ma non mi importava Rimasi a guardarli mentre bruciavano tutto Prima o poi gli alberi muoiono Le gasse crollano Ma il mio onore può andare perduto Solo se sono io a permetterlo Minchia Branana Un uomo tutto d'un pezzo Tornarono una settimana dopo Chiedendomi di prestare giuramento Stavolta Quando mi rifiutai mi misero in catene Ora sono qui e morirò in questo luogo Sembra un motivo sciocco per morire Vero? Avrei potuto pronunciare qualche parola E ricostruire la mia casa Continuare la mia vita come se nulla fosse cambiato Cento generazioni nella mia famiglia Hanno vissuto e sono morte su questa terra E io non scambierò l'onore della nostra famiglia Con delle mele Chiunque tu sia Qualunque sia il motivo che ti ha portato qui Se mai dovessi lasciare questo posto Spero che andrai a Rainsphere Lì nessuno di noi è ancora in vita Ma troverai comunque la mia famiglia Abbiamo camminato sulla terra Siamo nel vento che smuove gli alberi Racconta alla mia famiglia come sono morto E ti prometto che loro ti ascolteranno Branana Grande Mastro Banana E poi anche i mostri Lei in faccia io Guarda Di tutte le posizioni che poteva mantenere Gli è andata in testa Questi li stunniamo Facciamo anche questo I danni che prendiamo Magari voi riposizionatevi Così non devo stare a curarvi ogni 3 secondi Ma questo lo facciamo Mamma mia Lei spara a mitraglietta BAM 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 Missa un botto Devo dire Con le frecce quelle mirate Oh Però quando gritta fa 45 45 ragazzi Ah ce n'è ancora uno qua Super sfigazza all'angolino Tiro distruttivo È super baggato Eh non lo so Non lo so Diciamo che Bisognerebbe vedere quanto gritta Quanto c'ha lei di chance Di critico Bisogna Non lo dice qua Perché non credo che la dia solo l'arma La chance Ci stanno anche le statistiche C'era un Cosino Un fogliettino Con le stati Qualcosa c'era Qualcosa c'era Per vedere tutte le statistiche Però vattelo Eh Su Astuzia Te lo dice quanto No L'attacco a distanza In mischia No Non dice nulla Non dice Non ti dice quanto Effettivamente Gritti Eh chi lo sa Bang 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 Un tiro che ti incapace Così Gli altri li voglio tenere fermi Voglio vedere quanto ci mette a fare sto coso Lo so Eh il tiro veloce Però tira praticamente il doppio delle frecce Ne manca un po' eh Però Sono finiti ragazzi Basta Basta nemici Dovevo andare al piano terra Tira Tira